OMS di Siani Luigi, dal 1999 l'officina meccanica per ogni tipo di riparazione o intervento programmato. OMS di Siani Luigi, ci trovi a Via Caliri 4B, a Cava dei Tirreni. Anche a Cisterna di Latina, la Cavese potrà avere i tifosi a proprio supporto. Per la gara che opporrà gli Aquilotti a Lanzio domenica 28 aprile allo stadio Bartolani, con inizio alle ore 15, nella penultima giornata della Serie D, i tagliandi sono in prevendita in tre punti indicati dal club metelliano al costo di 12 euro compresi i diritti. E tutto lascia credere che, allo stesso modo con cui c'era stato un buon seguito di tifosi di Cava ad Avezzano per la gara con la Boreale, potrà avvenire la stessa cosa anche a Cisterna per l'incontro con Lanzio, che varrà soprattutto per la formazione di Mister Guida. Lanzio è in tredicesima posizione. Per sperare di evitare i play-out dovrà cercare di vincere in tutti i modi e la Cavese sarà chiamata comunque a cercare di essere reattiva in campo, soprattutto nella fase iniziale del gioco. La formazione neroniana, peraltro, ha fatto gol in tutte le partite interne che ha giocato, tranne una, quella con la Flaminia, nella quale ha perso per 0-6, sempre a Cisterna di Latina, ma aveva sciupato un rigore a favore. Nelle ultime due giornate del campionato ci sarà da rispettare il principio di contemporaneità tra tutti quei campi sui quali sarà in gioco il medesimo obiettivo. Quindi, osservando la classifica, si può pronosticare come debbano iniziare allo stesso orario di Anzio Cavese, domenica alle 15, anche Latte Dolce Ardea, Atletico Uri Flaminia, Cinzia Gladiator, Trastevere Nocerina, San Marzano Boreale e Cassino Budoni. Queste gare non potranno subire posticipazioni o anticipi rispetto a quella dell'Anzio. È già fatta per l'ammissione delle squadre di Romana, Ischia, Cassino e Nocerina ai play-off, con esclusione delle altre, ma nella zona salvezza nulla è ancora deciso. La Cavese, benché abbia già conquistato la promozione in C, ha ancora alla propria portata l'obiettivo di essere il migliore attacco. In 32 partite la squadra di Mister Di Napoli ha segnato 52 gol, proprio come l'Ostiamare, ma dovrà cercare di realizzare anche nelle ultime due gare della regular season anche un gol più dell'Ostiamare. Tra l'altro, in soli sei mesi da quando veste la casacca bianco-blu, Matteo Di Piazza ha già segnato 12 gol in 21 partite ed è il terzo giocatore con più reti nel girone G dopo Cardella e Calì, i quali in campionato hanno segnato anche contro la Cavese stessa. Per quanto concerne invece la miglior difesa, quella è attualmente il Cassino, che ha 20 gol al passivo, mentre la Cavese di reti ne ha subite 22 e proverà a chiudere più a doppia mandata la propria retrovia. Hanno sempre tutti degli obiettivi.